Pirati e corsari, leggende del mare. Il fascino del mare ha sempre avuto un'attrazione irresistibile per l'uomo. Ma non tutti solcano le onde per nobili scopi. La storia marittima è ricca di figure avventurose e spesso controverse, come pirati e corsari, che hanno solcato i mari seminando il terrore o combattendo per la propria nazione. Pirati, i pirati sono figure iconiche della storia marittima. Naviganti senza legge, dediti al saccheggio e alla rapina, hanno solcato i mari in cerca di ricchezze e avventure. La loro età d'oro va dal XVI al XVIII secolo, quando i Caraibi e l'Oceano Indiano divennero il loro teatro di scorribande. Personaggi famosi, Barba Nera, il pirata più temuto del suo tempo, con la sua folta barba nera e il suo atteggiamento feroce. Capitan Kid, un pirata scozzese che divenne leggenda per il suo tesoro nascosto. Anne Bonny, una donna pirata irlandese, abile combattente e figura di rilievo nella storia della pirateria femminile. Calico Jack Rackham, noto per la sua bandiera con la Jolly Roger e per la sua relazione con Anne Bonny. Corsari, i corsari, a differenza dei pirati, erano privati i cittadini che ricevevano una lettera di marca dal proprio governo per attaccare le navi nemiche in tempo di guerra. Erano considerati eroi della patria e svolgevano un ruolo importante nell'indebolire le flotte avversarie. Personaggi famosi, Sir Francis Drake, un corsaro inglese che circunnavigò il globo e sconfisse la flotta spagnola nell'invincibile armata. Jean Lafitte, un corsaro francese che divenne noto per il suo ruolo nella guerra anglo-americana del 1812. Qin Shi, una donna cinese che divenne la pirata più potente della storia, comandando una flotta di oltre 800 navi. Differenze tra pirati e corsari, status legale, i pirati erano fuori legge, mentre i corsari operavano sotto la legge del proprio governo. Motivazioni, i pirati erano motivati dal guadagno personale, mentre i corsari combattevano per la propria nazione. Tattiche, i pirati attaccavano navi mercantili e da guerra indiscriminatamente, mentre i corsari si concentravano sulle navi nemiche. Eredità, pirati e corsari hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura popolare. Le loro avventure hanno ispirato libri, film, canzoni e leggende che continuano ad affascinare il pubblico ancora oggi. Conclusione. La pirateria e la corsa sono fenomeni complessi che non possono essere ridotti a semplici stereotipi. Le loro storie raccontano di coraggio, avventura, ambizione e spesso brutalità. E ci ricordano che il mare è sempre stato un luogo di fascino e mistero, dove la legge e illegalità si confondono e dove l'uomo è in balia delle onde e del proprio destino.